Prima esibizione per l'Accademia del Ghiaccio a Castiglione delle Stiviere, una serata davvero emozionante che ha visto solcare il ghiaccio del Palazzetto Provvisorio, la campionessa italiana Nicole Della Monica e i vice campioni nazionali tedeschi Tania Colbe e Stefano Caruso. Siamo riusciti a portare a Castiglione delle Stiviere tre nomi di prestigio, quindi un grande prestigio per noi averli qui a Castiglione delle Stiviere questa sera. E quindi un grande onore anche per la cittadinanza. Grande onore per la cittadinanza e grande onore per i nostri piccoli atleti che stasera si esibiranno insieme a loro. Che cosa vi aspettate per il futuro? Ci aspettiamo che questa pista provvisoria riesca a far crescere la voglia di pattinare e che il Palazzetto Definitivo al più presto sia pronto per ospitare grandi campioni e grandi eventi. Sempre all'insegno dello sport, del sociale e dell'amore per questo sport perché è veramente uno sport bello ed elegante. Il divertimento continua sabato 29 ottobre quando lo stadio del ghiaccio verrà infestato da spiriti e streghe per la magica notte di Halloween. Una serata all'insegna del brivido dove naturalmente il travestimento è d'obbligo.